Salve ragazzi, io sono Kingsley Corporation e bentornati in questa nuova live Seguitemi su Instagram, su Youtube e su Twitch come Kingsley Corporation E... niente Ho già fatto questo Ma non ci credo Non ci credo Sta dietro Sta dietro Sta dietro Sta qui Nermanche l'avevo visto Ho 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 non c'è quello che vuoi bella scoperta 4 su 5 allora artefatto 1 trovato 2 su 5 che adesso ho già preso 3 su 5 l'ho preso pure questo non ci credo non ci credo non ci credo non voglio sparare non voglio sparare non ci credo non ci credo ma cioè io alcune volte mi voglio ammazzare veramente non Grazie a tutti 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 Andiamo Grazie a tutti 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 E così Grazie a tutti 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 Grazie a tutti